A D'Angrigento, al Teatro Pirandello, venerdì prossimo, 28 settembre, sarà presentata la nuova stagione teatrale 2018-2019. A Palermo, al Teatro Biondo, la nuova stagione teatrale è stata già definita e presentata. Ascoltiamo il direttore del Teatro Biondo di Palermo, Roberto Alaimo. Degenerazioni perché nel doppio senso di generazioni nella variante degenerativa, e cioè i rapporti fra maestro e allievo, fra genitore e figlio, che ricorrono come tema in moltissimi degli spettacoli della stagione. Abbiamo scelto infatti questa immagine tratta da Slava Snow Show, lo spettacolo forse più di richiamo della stagione, che è un pagliaccio che spinge un masso, che mi ha ricordato l'immagine di Sisifo, il clown che dovrebbe essere una figura sorridente, che invece si trova a combattere contro le difficoltà frustranti della realtà. Il mancato riconoscimento del Biondo al Teatro Nazionale non ha minimamente inficiato l'attività stessa del teatro? No, perché in realtà noi avevamo imbastito una stagione da Teatro Nazionale. La bocciatura ha fatto sì che abbiamo tagliato alcune cose che erano previste per l'estate, per cercare di rientrare nei canoni economici, e poi per il resto è rimasto tutto esattamente così, con La Tempesta di Shakespeare, che sarà una superproduzione, con una specie di nazionale degli attori siciliani, e con Enia, con uno spettacolo d'apertura che sono, non ricordo, le rane di Aristofane, con Ficarra e Picone, per cui abbiamo richieste un gran numero. E quindi il teatro va avanti con la consapevolezza che comunque Palermo è una capitale del teatro. Io sfido chiunque a trovare una vivacità, un fermento come quello che c'è a Palermo in questi anni. Il cartellone è già stato presentato, è già partita la campagna di abbonamento, di rinnovo per i vecchi abbonamenti. Come si prepara il teatro a questa nuova stagione e quali sono i primi dati? I primi dati sono molto positivi perché l'unico significativo del raffronto fra lo stesso giorno e l'anno scorso è questo, visto che più o meno il periodo è identico, e siamo intorno al 10% in più. Ci sono anche alcuni nuovi abbonati già adesso che si sono accontentati dei posti che l'anno scorso erano liberi. Questo è un altro sintomo significativo. Certo, saranno decisivi i prossimi 15 giorni in cui si capirà quanti dei vecchi abbonati hanno pensato di rinnovare. Nel frattempo noi stiamo preparando le due sale, il ridotto, la sala Streller e la sala grande, cercando di recuperare certe faticenze che negli anni scorsi erano venute a maturazione, negli anni della crisi in cui non c'erano le risorse per andare neanche a rimediare a certe emergenze. E specialmente la sala del ridotto sarà molto più accogliente, mettiamola così. A Novera, mi ricordiamo, scadrà il tuo mandato come direttore artistico del Teatro Biondo. Sono contento di aver affrontato questa sfida. Una sfida che è a metà, perché naturalmente in questi anni abbiamo cercato soprattutto di aggiustare la rotta da un punto di vista amministrativo, visto e considerato che il teatro era appesantito. Mi ha fatto molto piacere sentire più volte l'assessore regionale al turismo riconosce che il Teatro Biondo è un'eccellenza siciliana, almeno dal punto di vista dei numeri. E per fortuna ancora in Italia i numeri non sono appannaggio di nessuno.